Bentornati su MyFootballJersey. Quella che indosso è la terza maglia del Vasco da Gama per la stagione in corso, la 2023-2024. È un'edizione fan, vi ricordo che l'edizione fan è quella un po' più confortevole pensata per i tifosi. Grazie a tutti. La maglia è veramente molto bella, guardando su internet è una di quelle che è piaciuta di più in questa stagione e devo dire che anche a me fa la stessa impressione. Molto belli i colori, nera ovviamente, le fritture rosse con questa scritta in sovraimpressione sulla maglia, veramente gradibile. Il costo lo lette qui sopra, vi ricordo che include anche le spese di spedizione. Se volete maggiori dettagli trovate tutti i riferimenti qua sotto, nella descrizione del video. Andate a vedere perché insieme alle informazioni troverete anche un link col quale potrete ottenere un coupon da 5 dollari. Prima di lasciarvi la parte finale, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale. È un piccolo gesto, ma ci permette di mostrarvi maglie belle come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti!